Allora come ogni venerdì chiudiamo la settimana con star bene in tv quest'oggi è tornato a trovarci il dottor Riccardo Tomins sostituto direttore della struttura complessa di igiene e sanità pubblica dell'Auswitz. Grazie direttore per essere venuto a trovarci e oggi appunto l'argomento è la scabbia. Intanto di che cosa parliamo quando parliamo di scabbia? Buonasera grazie dell'invito grazie dell'occasione per parlare di questa malattia pur sempre di una malattia si tratta anche se a confronto di quelle con le quali trattiamo normalmente che sono un morbillo, una tubercolosa, una varicella ha delle caratteristiche molto molto diverse ecco di scabbia non si muore, di scabbia non si sta male, la scabbia dà fastidio, un prurito che può essere anche molto fastidioso ma comunque non è una malattia grave. La scabbia è causata da un acaro, una bestiolina microscopica e l'acaro della scabbia, Sarcoptes scabbiai, varietà dell'uomo, esistono anche altre varietà e questo piccolo acaro si trasmette per un contatto prolungato pelle-pelle, scava dei cunicoli nella pelle e in questa maniera col tempo dà una sensibilizzazione dal sintomo, il prurito. Ci vuole un po' di tempo, di solito ci vanno delle settimane, 4-6 settimane da quando uno si infesta, a quando viene fuori il prurito, questo proprio perché serve il tempo perché il nostro organismo si sensibilizzi. Mi perdoni, i sintomi possono essere confusi con qualcos'altro ed eventualmente sottovalutati oppure, perché se non ricordo male, dà prurito? Dà prurito, dà essenzialmente prurito e quindi si può confondere con qualunque altra causa di prurito. È un prurito prevalentemente notturno, quando si sta più al caldo, sotto le coperte e diciamo che se uno comincia a avere questo prurito e questo prurito va avanti è opportuno farsi vedere dal proprio medico o direttamente dal dermatologo perché ci può essere questo problema. Certo che se uno ha conoscenze del fatto che è venuto a contatto con persone che hanno avuto o hanno lo stesso problema, allora è molto più facile che si tratti proprio di scabbia. Non ci sono altri sintomi tipo manifestazioni cutanee di una certa evidenza eccetera? Allora, la scabbia si manifesta con delle piccole lesioni cutanee anche, i cunicoli perché come dicevo, scava l'accaro, questi cunicoli, cose di un paio di millimetri di lunghezza ecco, di color bianco, grigio, perlaceo, una forma caratteristica a virgola e hanno anche delle sedi caratteristiche questi cunicoli, le pieghe fra le dita, il polso, il gomito, la linea della cintura, negli anziani soprattutto, ma non solo, gli organi genitali, il capezzolo. Nei bambini interessa poi interessare anche delle sedi atipiche come il viso, come le palme delle mani, le piante dei piedi, ma soltanto nei bambini piccoli. Mi perdoni, perché sono questi i luoghi dove si possono vedere le manifestazioni cutanee? Perché lì la bestia scava? Perché quelli sono i posti preferiti dall'accaro per scavare e per farsi la sua tana, la sua casetta. Il contagio avviene per contatto diretto? Sì, allora, intanto finiamo con i sintomi, per chiudere il quadro, ci possono anche essere delle piccole lesioni elevate, dei brufoletti, chiamiamo un papulo, che si sentono anche al tatto, però non si riesce a vedere l'accaro. Per fare diagnosi, uno che ha occhio, dice già vede queste lesioni, cunicoli, eccetera, se magari c'è anche un criterio epidemiologico, ci sono altri casi, basta questo per dire ok, quasi sicuramente quello tratto e dovrebbe essere giusto così. Meglio è, se si ha l'occasione, quindi in situazioni normali, andare a vedere meglio la lesione usando un apparecchio, il dermatoscopio, che è quello che si adopra anche comunemente per vedere i nei, no? E che riesce a ingrandire di quel poco che basta per vedere il parassita, per vedere le uova, per vedere eventualmente anche la materia fecale e questo è sufficiente a porre una diagnosi di certezza. Queste due cose, una cosa mi sono dimenticato di chiedere prima, le manifestazioni cutanee, no? Avvengono in un solo luogo? No, avvengono in più luoghi, in più luoghi ovviamente, ma di solito una persona ospita 15, 20, 30 acari, non di più, quindi bisogna proprio andare a cercarli, no? Ecco, specialmente dopo un trattamento. Poi, tanto per così vedere anche tutto lo spettro delle possibilità, esiste anche un'altra forma che è la cosiddetta scabbia crostosa o norvegese, dove il paziente, le persone, può ospitare fino a mille acari, quindi è completamente ricoperto. E chi è norvegese? Ecco, e si chiama scabbia norvegese, probabilmente ci sarà qualche storia di marinai, di paesi nordici, non sono mai riuscito a trovare il perché di questo norvegese, no? E mi perdono ancora, non c'è febbre? No, assolutamente, non c'è febbre, no? Mi viene in mente il mal francese, il mal napoletano, e questo, no? Ah, per sé, sicuramente. Ecco, e questo qua è la scabbia norvegese. Più correttamente, ecco, non vorrei dopo che qualcuno si sentisse offeso, possiamo chiamarla scabbia crostosa, ecco, che anche rende meglio l'idea, perché in questo caso il paziente è completamente ricoperto di croste, è altamente infettante, questo sì, è altamente infettante, e non ha prurito. Sono forme tipiche di persone con deficit dell'immunità, anche non molto, molto forti, quindi anziani e persone con malattie croniche. Sono casi molto rari, io non ho avuto negli ultimi anni segnalazioni di questa forma di scabbia, per fortuna, perché torno a ripetere, contrariamente alla forma normale, questa è altamente contagiosa. Mi perdoni, dottor Tomiz, quando noi parliamo di, appunto, di questa malattia, perché insomma è una malattia, prenderla, adesso vado proprio veramente con la maniera, come si dice, prenderla è segnale anche di scarsa igiene o non necessariamente? Allora... Perché la, come dire, la vox è quella... Allora, in effetti il problema scabbia è molto simile sotto certi aspetti a quello delle apidiculosi, i pilocchi del capo. Quindi c'è tutta una stimata sociale, cioè sono sporchi, sono i migranti, sono i poveri, i rienti... Perché io qua sono terrorizzato da sto cavo. E questo cavo non so... Ecco qua, forse così è bene. Ok, io cerco di star fermo, non mi agito, non mi gratto soprattutto. Dicevo, questa stimata un po' sociale della scabbia, no? Anche perché è una malattia con andamento cronico, da questo sintomo del grattarsi, quindi è vista come un fastidio, ma come un qualcosa anche di brutto, di cui da qui... Ecco, no? Allora, in realtà colpisce tutte le razze, ecco, non è come solo apidiculosi. Io in tanti anni non mi ricordo di aver visto un caso di apidiculosi in una persona della pelle nera. Questo colpisce tutte le razze e tutti gli strati sociali e non è assolutamente legata a un discorso di pulizia. Se non che, allora io posso farmi la doccia due volte al giorno, cambiarmi, bencheria pulita e tutto, dopo magari la notte sono in gita e mi ritrovo a dormire in un letto, come sarà successo penso a tutti noi da ragazzi, in qualche rifugio, in qualche casa, vacanze e altro, magari con il coprimaterasso e nient'altro, le fette dei terecci non cambia, e ci ha dormito uno con la scabbia, e allora io mi prendo la scabbia. È molto difficile tramite asciugamani, però metto su il vestito di un'altra persona, specialmente se sono senza maniche o le maniche corte, metto su un golfino, una giacca di uno che ha la scabbia e l'aveva prima indosso a lungo, questo può trasmettere, ecco. Però la scabbia in primis è considerata una malattia paravenerea, cioè una malattia a trasmissione sessuale, proprio perché richiede un lungo, un contatto prolungato, lungo, diciamo, almeno 3-5 minuti, cioè significa che se io do la mano, se io abbraccio una persona, eccetera, non succede, ecco. Molto, molto remota questa possibilità. Invece se ho contatto lungo significa anche, che so io, il contatto che ci può essere, uno si auspica ci sia, fra i genitori e i figli piccoli, no? Che uno se lo abbraccia, se lo strucola e vi dicendo, o magari ci dorme anche assieme. Quindi questo è importante anche per il controllo della malattia. E' fondamentale, perché se io tratto unicamente la persona con il prurito, e lo tratto bene, e non vado alla ricerca di chi l'ha contagiato e di chi potrebbe essere stato contagiato da lui, quindi i contatti familiari, il partner sessuale, in caso di lavoratori particolari, dell'assistenza, eccetera, gli assistiti di questi, allora ecco che il gatto poi si mangia la coda, no? Il gatto e il cane è differente. Certo. Il problema ritorna, il problema ritorna. Ecco però, giusto perché lei ha citato gli animali, loro non sono portatori. Ok, quantomeno uno non può prendere la... Diciamo che no, la scabbia dell'uomo è tipica dell'uomo. Ci può essere una situazione abbastanza strana, abbastanza rara, in cui uno ha avuto la scabbia, quindi si è sensibilizzato nei confronti dell'acaro e della scabbia, dell'uomo, viene a contatto con altri acari, che possono essere normali acari domestici, della polvere, oppure acari di animali, e questo può dar prurito e può confondere un attimino le idee. Ma comunque non è che ci si passa la scabbia dall'uomo al cane e viceversa, questo no. E come si cura? Perché poi dopo... Allora, la scabbia in Italia si cura essenzialmente con creme a base di piretro al 5%. Questa è la terapia, è un farmaco da banco, quindi uno può andare in farmacia, chiede al farmacista e la può avere, ma noi sconsigliamo questo, lo sconsigliamo caldamente per il motivo che ricevo poc'anzi. Io ho il prurito, intanto dovrei farmi la diagnosi, no? Cioè è inutile che io vada a mettermi su un insetticida, perché è un insetticida, no? Quando non serve. Cioè se uno dice, boh, mi prude, è un attimo che metto... Può essere qualunque altra cosa, no? Allora, i farmaci quando servono, servono. Grazie al cielo ci sono, ma quando servono? E va bene, ho il mal di testa, ho il mal di denti, eccetera, ovvio in questo caso, è inutile stare male per niente, mi prendo l'aspirina, mi prendo quello che prendo di solito. Ma in questo caso no, in questo caso, punto primo, è opportuno che sia posta diagnosi e la diagnosi la può porre il medico, no? Il medico, che può essere l'igienista, può essere proprio medico di base, può essere il dermatologo, il quale vede, possibilmente, se ha anche la possibilità di approfondire la diagnosi facendo un piccolo striscio o con il dermatoscopio, meglio, ecco, perché siamo sicuri, ma dopodiché bisogna assolutamente trattare anche gli altri, i possibili contatti. E la cosa importante, altra cosa che sfugge, non solo trattare tutti i possibili contatti, ma trattarli contemporaneamente. Perché se io mi tratto oggi e mia moglie si tratta domani e i miei compagni di stanza magari si sono ricoverato da qualche parte, li trattano dopo una settimana, è come niente. Perché torna e resta in circolo, potrei riprenderlo, no? Quindi è uno di quei casi in cui è particolarmente importante la segnalazione di malattia infettiva al Dipartimento di Prevenzione, proprio perché in seguito alla segnalazione noi del Dipartimento di Prevenzione avviamo l'indagine epidemiologica, telefoniamo a casa la persona, vediamo di capire chi possono essere i contatti di questa persona e prescriviamo la terapia in contemporanea. La terapia e anche le misure ambientali, perché senz'altro abbiamo detto che la possibilità di prendere la scabbia non per contatto diretto, ma tramite appunto l'asciugamano, il vestito, il peluche eccetera, sono molto basse. Però non sono nulla e quindi è opportuno prendere anche le misure nei confronti dell'ambiente. Dico subito che quello che si faceva una volta, fumigare, lo spray eccetera, non serve assolutamente nulla. Dà una falsa sicurezza e anzi espone a dosi di insetticida inutili e quindi dannose, come quasi sempre le cose inutili, però altre cose è bene farle, è bene passare bene l'aspirapolvere per tutta la casa, è bene lavare e pulire, l'accaro è sensibilissimo alla temperatura sia alta che bassa, quindi i vestiti, tutto quello che può essere messo in lavatrice, ciclo a caldo, 50-60 gradi, eventualmente anche l'asciugatrice dopo, ma è inutile, cioè ciclo caldo, è necessario, è sufficiente. Se non posso mettere in lavatrice un qualcosa di delicato, un qualcosa di grande, un sacchetto di nylon chiuso ermeticamente, lo lascio tre giorni, basta. D'inverno adesso ormai comincia a far caldo, ma se no metto fuori un poggiolo, quello che devo mettere fuori, la temperatura basta per ammazzare l'accaro. L'accaro che comunque al di fuori del corpo umano sopravvive per due, tre giorni al massimo, quindi anche nelle condizioni più favorevoli possibili, dopodiché è disgraziato, muore di fame e ame, e anche l'accaro muore. Affari sui, come si dice. Abbiamo ancora un minuto, può darsi il caso, per esempio, che due persone che incominciano il trattamento contemporaneamente, uno guarisca prima dell'altro? La guarigione, allora, il trattamento, quello che si può fare, che si fa normalmente in Italia con queste creme al piretro, si fa una prima volta e questa prima volta ammazza tutti gli acari che ci sono sulla persona. Se è fatto bene, e bisogna farlo bene, farlo bene significa mettersi la crema la sera, da dietro le orecchie fino alla punta dita delle mani e dei piedi, quindi molto bene, gli spazi sotto le unghie, bisogna farlo bene il trattamento. Se è fatto bene e anche sono fatte queste misure ambientali, insomma, che non sono niente vitale, allora è sufficiente. Spesso si fa fare un secondo trattamento dopo una settimana, dieci giorni per maggior sicurezza. Può essere che persista, può persistere o perché il trattamento è fatto male, o perché c'è la resistenza a quel dato insetticida, allora ci sono problemi perché non è facile trovare altri farmaci, o perché uno viene reinfestato. Stiamo attenti che il prurito può durare qualche tempo dopo, proprio perché è dovuto a questa sensibilizzazione, quindi io magari sono guarito e non ho più l'acaro, ma il prurito continua. Dottore, grazie per essere stato con noi. Il dottor Tomins è il sostituto direttore della struttura complessa di igiene e sanità pubblica. Star Bene TV torna venerdì prossimo a partire dalle ore 18, Trieste in diretta torna lunedì a partire dalle 18, grazie a tutti, passate un buon fine settimana e arrivederci. Grazie.